Il leone è un mammifero carnivoro della famiglia dei felidi. Dopo la tigre è il più grande dei sette grandi felidi del genere pantera con alcuni maschi la cui massa corporea supera i 250 kg. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!